Pozzuoli, omicidio suicidio dopo una lite in famiglia, tragedia nel pomeriggio nel quartiere di Monte Rusciello dove un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. In casa al momento della lite erano presenti anche i figli della coppia. Reddito di cittadinanza, caos e proteste a Napoli, da oggi sospeso il sussidio, situazione esplosiva nel capologo campano, centinaia di telefonati all'Inps di persone in difficoltà, aggrediti alcuni dipendenti, prese d'assalto anche le sedi delle municipalità. Clima, ragazza in lacrime, il ministro si commuove, Picchetto Frattin si emoziona al festival di Giffoni di fronte alle paure dei giovani per i cambiamenti climatici, l'esponente del governo quasi in lacrime, ho un dovere per la carica che ricopro verso di voi e i miei nipoti. Ariano, quattro indagati per l'operaio morto a Bovino, primi sviluppi nell'inchiesta sull'infortunio nel cantiere della Napoli-Bari, costato la vita a Gino di Furia. L'operaio di Ariano, rimasto schiacciato dal gancio dell'autogru, un atto dovuto della procura di Foggia, disposta all'autopsia. Benevento, fondi a rischio per il bene confiscato, salterebbe il progetto da 2 milioni e mezzo di euro previsto per trasformare l'ex cementificio Ciotta in un incubatore aziendale, colpa dei tagli decisi dal governo sul PNRR e l'associazione libera protesta inconcepibile. Salerno caia la metro per lo scalo Costa d'Amalfi, ha giudicata la gara da 170 milioni di euro che prevede l'estensione della metropolitana fino all'aeroporto. L'intervento, finanziato anche con il PNRR, consentirà di raggiungere in pochi minuti lo scalo dal centro città. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. Nei nostri titoli avete ascoltato le principali notizie di oggi, apriamo questa edizione con la tragedia che si è verificata a Pozzuoli, dove i carabinieri sono intervenuti in un appartamento in via Parini al Civico 10. All'interno hanno ritrovato i cadaveri di due persone, marito e moglie, con ferite di arma da fuoco. La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 17.30 dai vicini che hanno sentito litigare violentemente all'interno dell'abitazione. Al momento della tragedia vi erano i figli della coppia. Secondo una prima ricostruzione, il marito avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola e poi si sarebbe suicidato. Sul posto e i carabinieri, le vittime sono i coniugi Antonio Di Razza, di 50 anni, e Angela Gioiello, di 39, entrambi napoletani. All'arrivo dei militari erano nella camera da letto, a terra è stata trovata una pistola. Tensione alle stelle negli uffici napoletani per la sospensione a migliaia di famiglie del reddito di cittadinanza. Aggrediti alcuni operatori IMP, se l'assessore al welfare trapanese lancia un appello non regatevi nelle sedi dei servizi sociali per ricci della CGL, una bomba sociale annunciata. È bastato un sms dello stop del reddito a far scoppiare una vera bomba sociale. La tensione a Napoli, una delle città che più usufruisce del reddito di cittadinanza, è salita tanto che centinaia di persone sono andate a lamentarsi agli uffici IMPS di Via Begasperi e non sono mancati momenti di tensione. L'assessore al welfare al comune di Napoli, Luca Trapanese, chiede di non regarsi alle sedi dei servizi sociali. L'assessore ricorda che chi ha preso il reddito ed è ritenuto occupabile, cioè ha tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico e non ha minori a carico, potrà ricevere 350 euro al mese. Siamo solo all'inizio di una bomba sociale a cui vanno date risposte tra agosto e settembre. Così Nicolai Ricci, segretario della CGL Napoli e Campania. Dello stesso avviso il segretario Will Giovanni Sgambati. Ci saranno a partire dalle prossime settimane diverse miliardi di persone che rimarranno in totale degrado già in una condizione complicata e questo rischia di aversi delle ripercussioni anche di tensioni molto gravi, soprattutto in molte aree metropolitane. Io penso soprattutto nell'area nord di Napoli, penso soprattutto, guardando anche al di fuori della Campania, ciò che potrà accadere nell'area di Palermo. Quindi questo provvedimento, che ha un senso di rivedere, ha bisogno di una modulazione di più tempo. Il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, si commuove dinanzi alle preoccupazioni dei giovani per l'ambiente. A Giffoni, nel corso del Festival del Cinema per ragazzi, l'esponente del governo fatica a trattenere le lacrime. Ho un dovere verso la carica che ricopro, verso voi e verso i miei nipoti. Sentiamo. Io ho la forza del dubbio, che lo dico sinceramente. Non è riuscito a trattenere le lacrime il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ospite del Festival del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana. L'esponente del governo Meloni si è commosso quando dalla platea, una giovane, piangendo, ha espresso tutte le proprie preoccupazioni per gli sconvolgimenti climatici, facendosi di fatto portavoce di un'intera generazione. Alle volte penso che io non ho un futuro, perché la mia terra brucia. In questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto. Io non so se voglio avere figli, sinceramente, Ministro, non lo so. Io ho il dovere della carica che ricopro, ho il dovere verso di voi e ho il dovere verso i miei nipoti. Weekend da Bollino Rosso in Campania, partito il maxiesodo di fine luglio, code verso le località balneari, l'aumento dei prezzi influenza però le vacanze, anche se non si rinuncia a viaggiare a Dottocian e le testimonianze di cittadini e visitatori. Sentiamo. Weekend da Bollino Rosso, parte il grande esodo estivo. L'ANAS lancia l'allerta traffico verso le principali località balneari, anche in Campania. Sulla due del Mediterraneo, le Statali, Amalfitana, Sorrentina e Cilentana, la Telesina e Lofantina. L'aumento dei prezzi, che interessa tutti i settori, però condiziona anche i turisti. Sicuramente si avverte un rialzo dei costi delle materie prime e conseguentemente anche dei consumi al dettaglio. Sono più cari, però va bene. Qualche giorno bisogna staccare perché ci vuole. Dobbiamo ripartire un po' tutti con l'economia. Noi italiani cerchiamo di stare in Italia, vediamo di aiutare anche le nostre aziende. Si spende sempre. L'importanza è divertirsi. Si cerca di risparmiare su qualcosa? Magari vacanze più brevi? Sì, oppure semplicemente approfittare di case di parenti, come stiamo facendo noi in quest'estate. Ma io non ho problemi perché sono pure ospite da mie cugini. Ecco quanto hanno speso i campani in viaggio e i visitatori. Per il momento abbiamo bloccato solo i voli e è andata Napoli-Madrid. Madrid-Ibiza e Ibiza-Napoli abbiamo speso 170 euro a persona. Bisogna saver cercare. Abbiamo speso forse più di mangiare che di strutture. Le strutture alla fine con 200-300 euro ce le abbiamo fatte. Abbiamo già incominciato a prenotare le classiche escursioni, quindi più o meno penso che spenderemo per circa una settimana sui 2000 e qualche euro. Licenze bloccate a Napoli per aprire bar, ristoranti e frigitorie per tre anni, ma intanto i turisti e i cittadini si dividono. E' attesa giorni la pubblicazione sul Burk della campagna della delibera che blocca per i prossimi tre anni nuove licenze per il food and beverage a Napoli tra centro storico, quartieri spagnoli, Vomero e Chiaia. Un vincolo nato per tutelare l'artigianato storico locale dalla proliferazione di frigitorie e pizzetterie. Entrerà in vigore non appena pubblicato e da quel momento le nuove scia saranno bloccate e dichiarate irricevibili. San Gregorio almeno fortunatamente è riuscito a resistere mantenendo le botteghe e i negozi di artigianato legato all'arte presepiale. In San Sebastiano ormai più del 70% è andato via, non si mettono più strumenti musicali, spartiti, sono vendate tantissime le spizzerie, i piccoli locali per la movita veloce. Intanto per tutte le nuove aperture, anche quelle delle grandi catene annunciate ed avviate, è prevista una norma transitoria che tutelerà chi ha già avviato il suo percorso. Ma intanto tra le strade di Napoli cittadini e turisti sono divisi. Beh, sicuramente è caratteristico di Napoli avere i locali e il folklore e tutto quanto, quindi sarebbe probabilmente giusto il controllo ma non chiusura eccetera, perché sennò perderebbe la caratteristica di Napoli. Magari controllare chi ne ha in più rispetto a quelle che dovrebbe avere, però addirittura non fare aprire più attività la vedo un po' esagerata come cosa. Io penso che sia una cosa positiva, diciamo, perché si è dato troppo, diciamo, a un turismo, diciamo, modi e fuggi. Finalmente un po' di regola e speriamo anche i tavoli di fuori, perché non si può camminare. Giusto così, meglio, che tanti bar, tanti negozi alimentari, è pieno. E la sforbiciata ai fondi del PNRR decisa dal governo scatena l'ira di De Luca che attacca il ministro Fitto è una rapina ai danni del Sud, disappunto anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che parla di una scelta incomprensibile e soprattutto non concordata con i comuni. Sentiamo. La rimodulazione del piano di ripresa e resilienza scatena la protesta istituzionale di Regione Campania e Comune di Napoli, tagliati 16 miliardi di euro, molti dei quali destinati a progetti per il mezzogiorno, sanità e infrastrutture, alcuni dei comparti interessati dal provvedimento del governo che ora dovrà passare al baglio dell'Unione Europea. Nella consueta diretta social settimanale il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato il ministro Fitto parlando di rapina ai danni del Sud. Ci sono alcune cose chiare, la confusione generale nella gestione di questa materia da parte del ministro Fitto, i ritardi clamorosi e l'unica cosa chiara è il taglio di risorse destinate al Sud. Sulla sanità ci prepariamo a rubare i fondi ordinari destinati all'edilizia ospedaliera, per le case di comunità ci prepariamo a fare la stessa cosa utilizzando i fondi sviluppo e coesione. Un disastro di proporzioni inimmaginabili. Disappunto per la scelta del governo è stata espressa anche dal sindaco di Napoli. Siamo rimasti veramente molto colpiti da questa decisione, che non era stata neanche negoziata con i comuni, di uno spostamento di risorse su progetti su cui già sono state fatte le gare e con molti cantieri aperti. Il commento di Gaetano Manfredi. L'inquilino di Palazzo San Giacomo contesta il taglio delle risorse sottratte alla necessità dei cittadini. Uno spostamento di finanziamenti incomprensibile, secondo Manfredi. Sarebbero quattro tra impresa e committente per la tragica morte di Gino di Furia, l'operaio di Ariano Irpino. Chiaramente le persone indagate, rimasto schiacciato dal gancio dell'autogruv precipitato sulla torre di manovra nel cantiere dell'alta velocità Bari-Napoli a Bovino, in località Giardinetto, proprio nel giorno del suo compleanno. Un atto dovuto per gli inquirenti della Procura di Foggia, che hanno appunto disposto l'autopsia sul corpo dell'operaio. La tragedia è avvenuta nella mattinata di venerdì scorso. Il 62enne è morto durante la disperata corsa in elie ambulanza all'ospedale di Foggia. Troppo gravi le lesioni riportate. Dieci anni fa la strage del bus del viadotto di Acqualonga in Irpinia. Sindaci e parenti delle vittime a Monteforte ricordano la tragedia al microfono di Ottocianna e la commozione di Arianna, che all'epoca aveva solo 10 anni. Sono una sopravvissuta. Sentiamo. La strage del viadotto di Acqualonga, dieci anni dopo la commemorazione delle 40 vittime qui a Monteforte, Irpino. Presenti gli amministratori, presenti i parenti familiari delle vittime che persero la vita a Ben Quaranta in quella tragica notte. E anche Arianna, una dei sopravvissuti, la più giovane, aveva solo 10 anni allora, quando quel pullman volò giù dal viadotto dell'autostrada A16. Venendo qua sicuramente è un ricordo... Cosa ricordi di quella notte? È molto piccola. Mi ricordo tutto come se fosse ieri, perché comunque non è facile da dimenticare. Sono passati 10 anni, però il ricordo c'è sempre. Si provava anche tanta rabbia, non solo dolore, perché comunque non c'è stata ancora fatta giustizia dopo 10 anni. Però veniamo sempre qua, sempre con la speranza che possa cambiare qualcosa. Sono purtroppo ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella mia memoria e nella memoria dei miei concittadini che sono accorsi subito sul posto, nonché amici miei. È stata una tragedia in mano, secondo me, la più pesante degli ultimi anni in Italia. Ogni anno io sono molto, molto emozionato quando arriva questa data, il 28 luglio, arrivano dei ricordi bruttissimi. Il pullman era adagiato lungo questa scarpata e appena mi sono avviato verso il pullman mi sono reso conto della tragedia che c'era. Erano parecchie vittime in pochissimo spazio, cose che raramente si possono trovare. Insomma, io ho fatto maxi emergenza, sia in Albania, durante i terremoti, però le vittime non erano mai così concentrate come in questo caso nel pullman. In pochi metri quadrati, in effetti, stavano tutte le persone sotto il pullman. Hanno accumulato debiti erariali e commerciali per 1.800.000 euro attraverso società intestate a prestanome che poi hanno svuotato utilizzando false fatturazioni e quanto scoperto dai finanzieri di fratta maggiore che coordinati dalla procura di Napoli Nord hanno sequestrato 260.000 euro, 7 immobili, 33 macchinari e quotidi di partecipazione riconducibili a tre società a calzaturiere di Grumonevano. Complessivamente sono 14 le persone indagate, ritenute dagli inquirenti responsabili di bancarotta fraudolenta, emissione o utilizzo di false fatturazioni per oltre 250.000 euro, auto riciclaggio di risorse finanziarie. I finanzieri hanno eseguito anche delle perquisizioni nelle sedi delle società e nelle abitazioni degli indagati. Le indagini erano scattate nel 2020. A Benevento è a rischio l'importante progetto da 2 milioni e mezzo di euro previsto per trasformare l'ex cementificio Ciotta bene confiscato alla criminalità in un incubatore aziendale dopo la decisione del governo di cancellare i fondi del PNRR per la valorizzazione dei beni confiscati dalle mafie. L'associazione Libera lancia dunque l'allarme e dice è inconcepibile, sentiamo. E a rischio a Benevento il progetto per la ristrutturazione e valorizzazione dell'ex cementificio Ciotta. La decisione del governo di cancellare i fondi PNRR per valorizzare i beni confiscati alle mafie potrebbe fermare il piano per creare presso la struttura di contrada olivola un incubatore aziendale grazie ad un finanziamento da 2 milioni e mezzo di euro. A lanciare l'allarme l'associazione Libera. Questo è un segnale drammatico che ovviamente mette in discussione anche il progetto che riguarda l'ex cementificio Ciotta dove sono stati assegnati ben 2 milioni e mezzo per la riqualificazione dove lì dovrà nascere un incubatore aziendale e oltre a tante altre iniziative che consentirà di coniugare in chiave positiva il verbo lavorare sul nostro territorio. Però sembrerebbe che tutto questo alla politica e di conseguenza all'attuale governo sembrerebbe che tutto questo non interessi. Per l'associazione si tratta di una scelta inconcepibile che prevede la cancellazione del più grande investimento su questi beni pubblici degli ultimi 40 anni. Soldi che sarebbero diventati asili nido, centri antiviolenza, presidi di mutualismo e legalità in territori colpiti dalla violenza mafiosa. È una scelta molto grave un segnale inquietante che viene lanciato a tutto il paese e di conseguenza anche ai territori. È molto preoccupante noi su questo alzeremo forte la voce. Via d'Avellino dopo concerti ed eventi ripulita Piazza Libertà festa in vita i cittadini al rispetto ma intanto al centro storico è ancora a degrado. Concerti, eventi migliaia di persone ad Avellino l'altra sera il pianone per il concerto di Rosa Chemical e altri appuntamenti che seguiranno nelle prossime settimane. Inevitabilmente però ha aumentato il degrado soprattutto in Piazza Libertà dove sono scattate diverse segnalazioni. Stamattina all'alba è partito un intervento straordinario di pulizia a cui ha presenziato anche il sindaco Gianluca Festa. 5 del mattino e da poco ha preso il via l'intervento di pulizia e sanificazione di Piazza Libertà a causa di una parte delle migliaia di persone che negli ultimi giorni hanno frequentato la città e in particolare la piazza centrale di Avellino purtroppo è diventata più sporca ed è stato compromesso anche il suo decoro per questo ho deciso di fare effettuare un intervento straordinario al quale ho voluto anche essere presente. Noi come al solito facciamo la nostra parte però per mantenere pulita la piazza e per far sì che sia mantenuto preservato anche il suo decoro c'è bisogno della vostra collaborazione bisogna vivere Piazza Libertà come casa vostra il luogo in cui con i propri cari si trascorrono anche piacevoli serate e quindi come casa vostra va vissuta e trattata. C'è anche però l'altra faccia del Ferragosto Avellinese arriva dal centro storico dove i cittadini continuano a segnalarci degrado ed episodi di inciviltà bottiglie rotte e vicoli che diventano orinatui qualche controllo in più anche in previsione dei concerti e degli eventi di agosto non guasterebbe. Ancora un passo avanti per l'aeroporto di Salerno aggiudicata la gara da 170 milioni di euro che prevede l'estensione della metropolitana fino al costa Damalfi sentiamo. Rete Ferroviaria italiana ha aggiudicato la gara dal valore di circa 170 milioni di euro finanziati anche con i fondi del PNRR per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per il completamento della metropolitana di Salerno tratta Rechi Pontecagnano aeroporto costa Damalfi al raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile SCARL RCM Costruzioni Brancaccio Costruzioni e GCF Generale Costruzioni Ferroviarie l'intervento prolungherà la metro con altri 9 chilometri di linea attivando 4 nuove fermate potenziati anche i collegamenti con l'ospedale e l'università soddisfatti del risultato i sindacati ulteriore elemento che fa bene sperare per il prosieguo rispetto all'impegno preso sull'apporto definitivo finale dell'aeroporto quindi questo ulteriore investimento che la tratta della metropolitana che fino a Pontecagnano è un elemento che a noi fa bene sperare un concreto passo in avanti che porterà vantaggi chiarisce a Padula su tutto il territorio nuovi posti di lavoro turismo che sicuramente sarà incrementato rispetto a quello che sono le proiezioni future fa bene sperare rispetto a quello che si sta mettendo in campo che finalmente avrà una soluzione nella primavera prossima ed il parlamentare di Forza Italia Francesco Rubano ha presentato i nuovi amministratori che hanno aderito al partito ed ha annunciato l'arrivo in città per settembre del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin che incontrerà il leader di Confindustria Oreste Vigorito e gli industriali sanniti per discutere di temi energetici arriverà nel sanio l'11 settembre il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin incontrerà il leader di Confindustria Benevento Oreste Vigorito e gli industriali sanniti per discutere tra i vari temi anche di quello energetico in un momento cruciale lo ha annunciato il parlamentare di Forza Italia Francesco Maria Rubano Pichetto Fratin lo porterò dal presidente di Confindustria Vigorito a parlare con gli industriali gli industriali consegneranno al ministro Pichetto Fratin un dossier e ovviamente inviteremo anche i presidenti degli ordini professionali tecnici i sindacati di categoria quindi gli agricoltori in conferenza in conferenza Rubano ha poi annunciato nuovi ingressi nel partito lanciando il guanto di sfida al sindaco di Benevento Clemente Mastella segue un'operazione programmatica nel territorio nell'interesse esclusivo dei cittadini e quotidianamente riscontriamo adesioni e interlocuzioni da parte di persone che scelgono Forza Italia perché sposano il progetto politico che è destinato esclusivamente agli interessi della collettività e non agli interessi familiari o di tre o quattro soliti noti quindi questa è la capacità di attrazione di Forza Italia esprimere un'importanza una caratura un rilievo nazionale espletare una funzione all'interno del governo del paese importante che riesce a riscuotere risultati tangibili un teatro con 3.000 posti a sedere a piazza del plebiscito per restate a Napoli la rassegna promossa dal comune con la direzione artistica di Lello Arena 24 spettacoli dal 9 al 16 agosto per cittadini e turisti 24 spettacoli serali ad ingresso gratuito con la direzione artistica di Lello Arena in programma dal 9 al 16 agosto in piazza del plebiscito che diventa un teatro con 3.000 posti a sedere e la rassegna restate a Napoli 2023 che forte dei successi precedenti torna per la sua terza edizione con artisti navigati come Nino Frassica Maria Nazionale Roberto Colella Paolo Caiazzo e con loro giovani talenti ogni sera ci sono tre spettacoli c'è una fascia che è quella che chiamiamo dei boccioli cioè di di nuovissimi talenti che si stanno formando e che invece di arrivare a piazza del plebiscito partono da piazza del plebiscito abbiamo una fascia intermedia che sono circondato che sono circondato dal meglio del meglio di quello che si vedrà in futuro nel panorama dello spettacolo in Italia dopodiché ci abbiamo quelle che sono le serate più classiche la Germes promossa e finanziata dal comune di Napoli rientra nei progetti di Napoli città della musica e si propone come importante attrattore turistico per otto giorni consecutivi tanti spettacoli gratuiti di grande qualità che per trascorrere del tempo insieme per avere fare comunità per avere la possibilità di di trascorrere delle ore di spensieratezze e di allegria ed è anche poi l'occasione per vedere all'opera tutti questi giovani talenti che sono stati selezionati e formati attraverso l'accademia che è stata curata da Lello Arena e da Enzo De Caro proprio in memoria di Massimo Troisi Ed era questo il nostro ultimo servizio il Tg termina qui grazie per essere stati con noi vi lascio al meteo vi auguro una buona serata con i programmi di Otto Channel Grazie a tutti 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 Grazie a tutti